Buonasera buonasera a tutti che ci seguite oggi dodici eh febbraio duemilaventuno in compagnia in questa puntata di Criare il Futuro con Pier Paolo Segneri eh che già conoscete e eh Vincenzo Scotti che eh adesso andremo a presentare Pier Paolo Segneri presidente dell'Associazione Closino nel Centro il docente eh di lettere presso l'Istituto di Istruzione Superiore Tommaso Salvini di Roma e eh Enzo Scotti eh che è fondatore della Lincoln University è un eh personaggio di spicco della cosiddetta prima repubblica già ministro più di una volta eh insomma non necessita di ulteriori presentazioni è il l'ospite diciamo eh quasi perfetto perché mentre stiamo registrando eh oramai adesso sono quasi le diciotto il momento diciamo istituzionale è di alta tensione eh il presidente incaricato Draghi sta per andare a colloquio con il presidente della Repubblica a Mattarella eh per vedere insomma un pochino di concretizzare qualcosa per quanto riguarda questo governo e in tutto questo appunto noi stiamo registrando e parleremo di politica parleremo di politica con questo è importante rappresentante appunto Enzo Scotti eh che ha ricoperto vari incarichi istituzionali eh e come sempre io cercherò un pochino di mh tenere i tempi cercando di essere rapidi eh e comincio subito dando la parola a Pierpaolo che farà gli onori di casa. Grazie eh Gianni un saluto a tutti gli ascoltatori eh ricordo che questa iniziativa eh del programma del web della webcam di liberi punto dv è un'idea dell'associazione Frosinone al centro ehm che in particolar modo eh vuole eh sollevare una questione che è stata al centro del dibattito negli ultimi giorni ma che dovrebbe secondo me eh circolare di più tra le persone soprattutto tra la classe dirigente e la classe politica perché ho notato c'è molta confusione per questo per trattare un tema molto particolare che vorrebbe rispondere alla domanda che cos'è la politica perché credo che non sia davvero chiaro a molti allora ho cercato di immaginare un interlocutore che fosse autorevole credibile che potesse spiegare eh con eh tutte le carte in regola eh a tutti noi che cos'è la la politica eh nelle puntate precedenti ho sostenuto che ehm si confonde spesso eh lo noto a Frosinone in particolar modo ma penso che sia un discorso eh vasto almeno su tutto il territorio nazionale eh la politica o con l'amministrazione se penso agli enti locali se penso alle amministrazioni comunali come se la politica fosse tutto eh nell'elemento amministrativo burocratico eh che riguarda posso dire che so l'asfaltare una strada o un lavoro pubblico del comune sul piano amministrativo oppure di potere potere fino a se stesso potete avere il potere occupazione di determinate responsabilità cariche e incarichi eh coccarde eh gradi da porre sopra la giacca è come se questo fosse la politica in realtà l'associazione Frosinone al centro ha provato a dire una cosa diversa se non si ritorna a discutere a parlare a dialogare a dibattere a fare in modo che la classe dirigente soprattutto la classe politica possa ritrovare un percorso di formazione politica anche nella discussione e quindi un percorso di conoscenza e di cultura politica noi non avremo mai una classe dirigente all'altezza delle sfide per cui poi arriva giustamente Mario Draghi e se noi continuiamo a pensare che i finti programmi che si buttano eh diciamo addosso agli elettori come spauracchi siano la politica forse dobbiamo secondo me rivedere alcune cose prima di tutto eh io insomma insieme agli altri soci di Frosinone al centro abbiamo voluto dire che politica è cultura e cultura è politica però la cultura non semplicemente quella di libri non semplicemente quella dell'arte ma la cultura significa la mentalità l'approccio la conoscenza la comprensione la comprensione reciproca la consapevolezza e la politica quando diventa governo delle cose diventa prevenire prevedere e politica anche forse sicuramente forse ancora di più quella dell'opposizione o chi sta fuori da palazzo i cittadini la cittadinanza attiva è espressione politica non è che politica è soltanto quella degli eletti degli amministratori del sindaco e quindi riscoprire e capire che cos'è la politica io credo sia fondamentale per poter ehm diciamo capire anche quello che sta succedendo oggi in Italia con eh questo passaggio istituzionale di cui facevi riferimento tu Gianni ma anche per capire le piccole realtà locali le realtà provinciali eh che si sono impoverite sul piano del dibattito e hanno perso di vista il significato vero di politica per cui eh in realtà i cittadini stessi non riescono più a trovare degli interlocutori tra i partiti chiamiamoli così però noi dell'associazione abbiamo sempre sostenuto che i partiti storici sono finiti poi nel biennio novantadue novantaquattro in realtà non è subentrato niente che ha sostituito quel ruolo che avevano i partiti oggi si parla di crisi dei partiti ma se ne parla ormai da venticinque anni e più perché non c'è stato più una riflessione su quello che eh può ehm rappresentare oggi quale funzione può avere un soggetto politico con una forma partito magari innovata rispetto ai tempi e quindi di questo mh vorrei che parlasse soprattutto il presidente Enzo Scotti e cercando di rispondere insieme alla domanda che cos'è la politica sì noi siamo in presenza di un grande cambiamento radicale cambiamento della società della vita della società non solo quella la società nella quale noi viviamo il comune la paese eccetera ma nel mondo partiamo da una considerazione che lei già ha fatto questo segno cioè ha detto in fondo una cosa che sta oggi eh esplodendo con mille contraddizioni ma che dice semplicemente che la politicità che è l'arte del governo della cosa collettiva pubblica non appartiene ad un ceto quando appartiene quando un ceto vuole assorbire tutta la politicità e sostanzialmente governare la società e non governare con la società questo porta ad una grande crisi della forma democratica della politica e crea e crea prospettive o verso monopoli autoritari del governo della cosa pubblica quindi dittature di tutte le forme che conosciamo e vediamo o pensa che in fondo la politica è sulla testa della società e non che in fondo la grande funzione della politica è quella di proporre modi collettivi di risposta ai cambiamenti che si verificano nella società per ottenere il massimo del benessere della società allora il problema quale è? la prima cosa la crisi attuale evidenzia un dato o coloro che vogliono svolgere un ruolo attivo nella vita politica cercando di far crescere una cultura del governo della cosa pubblica a tutti i livelli devono capire che in fondo il grande cambiamento di questi ultimi decenni nel mondo va nella direzione in cui la società non accetta più di essere manipolata dalla politica ma intende avere sempre più nella vita collettiva un ruolo ed una funzione e la politica non può chiudere le porte o la politica si apre e coinvolge e la funzione primaria della politica è quella di riuscire ad attrarre consensi su progetti che vengono elaborati non si tratta la mattina di vedere quali sono i risultati di sondaggi e di pensare che quello è il modo di far partecipare la gente al governo della cosa pubblica la politica è fatta in questo modo una proposta e la capacità di attrarre su quella proposta il consenso della società e rendere la società parte viva della realizzazione di quel progetto perché se non c'è questo la politica diventa chiusa dentro un ceto diventa sempre più incapace di capire la società e il cambiamento della società la politica è di rispondere adeguatamente alle sfide che quel cambiamento comporta allora la politica è qualcosa di straordinario perché è la scienza, l'arte di governare la cosa pubblica non l'interesse particolare del singolo ma l'interesse di una collettività piccola, grande che essa sia per questo la politica deve avere sempre l'occhio attento a vedere e l'orecchio ad ascoltare di quello che sono i processi di cambiamento della società di quelli che sono i bisogni di fondo di una società cioè in fondo noi oggi siamo con un ritardo enorme della politica nel mondo a capire i cambiamenti e guidare i cambiamenti e non essere guidato dai cambiamenti quindi la seconda cosa è questa la politica è ascolto è visione la politica è l'arte della politica è quella di vedere oltre la siepe è di sapere indirizzare la vita di una comunità questa è la sua lui avanza le proposte noi siamo arrivati tra un'ora cerca il presidente incaricato sarà al Quirinale per presentare il governo del paese che è una che è molto importante perché non è un'ordinaria formazione di governo cioè in cui tutte le cose camminano vanno bene eccetera e si cambia il governo alle scadenze elettorali che intervengono periodicamente no noi ci troviamo di fronte a un fallimento della politica nel governare il cambiamento e nel riuscire ad esprimere una coesione capace di governare noi siamo di fronte a questa crisi e anche oggi lo verifichiamo abbiamo ripetuto in continuazione in tutti gli incontri eccetera che in fondo erano crollati le ideologie che tenevano la politica chiusa dentro degli schemi rigidi e quindi gli impedivano di vedere il cambiamento perché è caduto il muro di Berlino perché nei paesi nostri occidentali facciamo una fatica enorme a realizzare una crescita che sia non di consolidamento dei divari di reddito di benessere ma riuscire a avere una coesione ed una crescita omogenea in un certo misura non le guida Presidente la interrompo un attimo perché mi ha fatto venire in mente una cosa molto molto importante ovviamente quando lei dice politica è anzitutto è un'arte quindi non va confusa con il potere fino a se stesso e poi è visione è visione quando invece si ha la netta sensazione che in gran parte la classe politica di oggi a livello nazionale e locale abbia finora avuto una visione molto a tempi stretti di settimana in settimana di una navigazione a vista invece di aprirsi in mare aperto invece di avere uno sguardo verso il futuro per i prossimi 15 anni 20 anni una visione che è mancata ma se manca la politica intesa come arte anche del nuovo possibile l'arte di riuscire a prevenire prevedere quello che accade se manca una visione e tutto si impoverisce e tutto si racchiude in una roccaforte in un palazzo in un sistema che poi prima o poi crolla volevo ricordare magari ai più giovani agli studenti ai ragazzi che ci ascoltano che il presidente Vincenzo Scotti è stato un importantissimo esponente della democrazia cristiana fin dagli anni settanta entrato in parlamento nel 1968 e è stato anche sindaco di Napoli se non sbaglio non vorrei dire una stupidaggine quando in consiglio comunale a Napoli sedevano Giorgio Almirante Marco Pannella era un consiglio comunale insomma molto importante e era diciamo era una sede nazionale il consiglio comunale di Napoli vede la cultura politica la politica è in crisi perché perché non è in grado di proporre una visione e quindi un progetto ad una comunità ma soltanto quello di rincorrere emergenza su emergenza non sapendo che le risposte alle emergenze sono possibili ma per brevissimo tempo che io devo sapere dove stiamo andando a un giovane a una comunità a una famiglia dove stiamo andando il paese dove i cambiamenti tecnologici dove i cambiamenti planetari stanno la scienza sta portando e noi e la gente percepisce che questa classe politica è certo politico nel nostro paese ma nel mondo attenzione non è non ha la visione né le capacità né l'arte per proporre un un governo della comunità che porti a determinati risultati di benessere collettivo io le volevo chiedere siccome a Frosinone mi capita spesso anche di incontrare i politici locali che sostengono che la politica sia a livello comunale amministrazione no lei è d'accordo no no perché qual è il futuro di Frosinone questa è una visione politica complessa che è una visione di lungo periodo non è la visione della poi c'è dentro quella visione le cose che io farò nei prossimi cinque anni ma le cose che faccio nei prossimi cinque anni se non sono dentro la visione di quale comunità ma ci rendiamo conto che le città sono diventate sedi di esplosione di violenza e di cultura di violenza noi non costruiamo una città nella quale facciamo crescere la coesione cittadini il sindaco è una cosa ben diversa poi avrà i suoi amministrati i suoi tecnici per amministrare per realizzare quegli obiettivi che vanno nella direzione che noi abbiamo che loro hanno indicato ma se ne ho una missione cosa sarà della della comunità la scuola ma non la scuola il lavoro i trasporti cioè tutti gli strumenti ma io quale visione posso avere e cosa posso proporre sui trasporti se non ho una visione di quello che potrà cambiare e cambia e dà possibilità di cambiare nell'ambito dei trasporti della mobilità della gente cioè noi lo spazio pubblico dove la gente si incontra come aiutare una comunità a crescere culturalmente ma non attraverso nozioni cultura è una cosa viva ed è un insieme di scienza e di azione e di esperienza ecco se oggi il tema della città è diventato il tema centrale nella vita politica e l'avere sterilito la vita politica dei comuni soltanto agli interessi urbanistici agli interessi delle piccole opere pubbliche senza avere nella testa che proposta faccio alla mia comunità qualcosa sarà Frosinone Traventà nel contesto del territorio cosa propone al territorio non del comune della provincia e la provincia dentro la regione e la regione dentro la realtà nazionale se non c'è questo una comunità che propone che propone una visione del un sindaco deve promuovere una cooperazione tra tutti gli altri sindaci intorno ma non per fare una singola opera ma per vedere cosa saremo c'è il problema degli anziani che sarà sempre più impegnativo nella vita delle comunità e della città questo è un patrimonio umano di esperienza noi lo mettiamo in un angolo e ci preoccupiamo magari di metterli in un ghetto e di non pensare che sono una risorsa per tutta la comunità possono aiutare i bambini i ragazzi possono aiutare le comunità le famiglie eccetera cioè c'è c'è un problema è cambiata la demografia cambia notevolmente la popolazione si invecchia cosa faranno queste comunità cioè ora ci sono problemi immensi nella discussione di una campagna elettorale di un comune se il tema se noi rimettiamo la politica al centro della vita con l'età e sappiamo che la politica è questo non è isterilirsi dietro una lite per gli spazi di un piano regolatore cioè noi siamo sono anni che siamo andati sempre più dentro una un cune un vicolo cieco che non ha prospettiva scusi presidente volevo dire mi ha fatto venire in mente un'altra cosa siccome Frosinone è stata per diciamo dal dopo guerra dal secondo dopo guerra per decenni diciamo un feudo anche elettorale del presidente Giulio Andreotti e ovviamente il presidente Andreotti ha lasciato un'impronta di sé su Frosinone sulla provincia sulla ciociaria e lei lo ha conosciuto personalmente è stato nello stesso partito nello stesso governo e a proposito di questo qual è secondo lei il lascito di Andreotti che può valere oggi rispetto a questa situazione rispetto a questo impoverimento della politica verso o amministrazione o decadimento anche della qualità della classe dirigente che cosa possiamo lei che l'ha conosciuto prendere come messaggio politico da Andreotti oggi che può essere rivolto diciamo al suo ex feudo elettorale della ciociaria e di Frosinone Andreotti è stato il giovane allievo di De Gasperi diventato sottosegretario a 26-27 anni con il presidente e che cosa è in fondo il lascito di Andreotti sarebbe lungo ma quello che io posso riassumerle in una battuta no in fondo l'attenzione alla crescita di una comunità io ricordo non è che lui quando veniva in un comune vostro prima di venire si faceva dare tutti gli elementi andava qualcuno dei suoi collaboratori io mi ricordo e voleva il quadro della situazione anche della condizione umana e soprattutto la possibilità che Venendo poteva fare un dialogo non tra due che non si conoscono ma due che vedono la vita della comunità magari con diversa angolazione cioè ascoltare e rispondere e non pensare che l'uomo politico sia un solitario se è un solitario fa un altro mestiere questo è adesso in una battuta in cui questo significa lavorare sui giovani e trasmettere una cosa vede c'è stato Calamandrei è stato un grande giurista io guardo l'orologio abbiamo ancora sei minuti ecco io vado a questo racconto c'è un proposito lo vado a prendere di discorso sulla costituzione ai giovani che Calamandrei fa a Milano e le lo dia nelle mani dei giovani dove una parte della riflessione di Calamandrei è fatto perché anche in quegli anni la gioventù diceva la politica è negativa è sporca e questo e quello io non me ne frega niente non voglio parteciparci con questi eccetera e lui racconta questa storia ai giovani dice ci sono due migranti che salgono su un bastimento per andare lontano e uno quelli 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 piroscafi pieni di gente come noi vediamo oggi che andavano a emigrare e uno stava nella stiva a dormire e l'altro stava su vedendo a un certo momento si avvicina una burrasca allora lui scende giù dall'altro gli dice oh alza svegliati che qui diventa una cosa e quello si gira dall'altra parte dice perché devo venire dice che può succedere che noi andiamo a fondo la barca non è la mia e lui dice dobbiamo prendere questa considerazione che quello di cui io sto parlando e dico che non funziona eccetera eccetera è qualcosa a cui non me posso estraniare perché io sono corresponsabile di quello bellissimo ricordo di Piero Calamandrei questo racconto effettivamente che lascia e lancia un messaggio non soltanto ai giovani ma penso a tutta la classe dirigente e a tutti i cittadini spiegando cos'è la costituzione la costituzione non è una cosa morbida è una guida per uscire fuori dalle difficoltà è proprio per questo adesso che il presidente Mario Draghi Mario Draghi sta andando al Quirinale oggi è il 12 febbraio e sta salendo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è discusso molto proprio per cercare di rispondere ancora alla domanda iniziale che cos'è la politica secondo lei questa figura oggi in questo momento questo incarico dato a Mario Draghi è un'operazione politica o è un mandare e spostare le cose verso i tecnici visto che si è fatto molto questa differenza l'arrivo di Draghi è un arrivo politico o tecnico secondo lei è un arrivo politico che crea una condizione politica o i partiti che hanno capito la lezione che eravamo su un precipizio e ci stavamo cadendo dentro totalmente e che bisogna cogliere questa occasione perché gli strumenti di raccordo tra il cittadino e le istituzioni e lo Stato sono i partiti chiamiamoli come lo vogliamo ora o questi cambiano e cambiano in cultura escono fuori dalle ideologie antiche di due secoli trascorsi sanno affrontare le sfide che ci sono se i partiti si affidano di che abbiamo trovato il presidente lui ci porti fuori dall'emergenza e poi riprenderemo in mano la situazione ma se loro dopo il governo non saranno cambiati e saranno cambiati in profondità è un disastro enorme solo che non facciano i camaleonti che basta cambiare e dire io sono diventato europeista io sono diventato antisovranista io sono diventato quello no se hanno cambiato nei fatti delle decisioni nel metodo di governo se sapranno coinvolgere i cittadini alla soluzione dei problemi grazie grazie presidente perfetto allora io ringrazio entrambi per questa interessante puntata di creare il futuro ringrazio ovviamente del Paolo Segneri docente di lettere presso l'istituto di istruzione superiore Tommaso Salvini di Roma e il Vincenzo Scotti fondatore della Link University Link Campus University ma insomma rappresentante delle istituzioni in vari governi nella cosiddetta prima repubblica abbiamo parlato e abbiamo chiuso con delle parole sue di auspicio anche a Mario Draghi vediamo un pochino come andrà mancano pochi minuti vedremo adesso salendo al quininale cosa succederà grazie a entrambi continuate a seguirci su Liberi TV e questi importanti appuntamenti di Gravi Futuro grazie ancora grazie grazie a tutti 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 Grazie a tutti.